Alcamo, il consigliere comunale dell'Udc, Saverio Messana, bacchetta l'amministrazione sul documento unico di programmazione sul bilancio perché non avrebbe coinvolto le minoranze. Perplessità e critiche anche per il mancato servizio relativo al bus navetta per Alcamo Marina che ad oggi non solo non è partito ma potrebbe saltare per tutta la stagione. È l'ultimo duppe che facciamo perché dal prossimo anno poi si va a votare e chi viene poi farà il nuovo duppe e il bilancio ma noi non siamo stati coinvolti. Io sono deluso, deluso veramente, le dico, che avevamo intrapreso un discorso aperto nel momento della pandemia col sindaco, abbiamo fatto diverse riunioni mentre c'era la pandemia con le videoconferenze dove si diceva che dovevamo collaborare ma noi eravamo pronti veramente a collaborare. Abbiamo fatto veramente un momento importante, dico io, di collaborazione però al momento dei fatti, dubbio e bilancio escono dall'aggiunta già a posto, sono ingessati se non incementati che il Consiglio Comunale secondo l'amministrazione può andare solo a dire sì e basta. Ma non è così, la politica è fatta di altre cose è fatta di un tavolo di collaborazione perché i partiti, sì, ognuno la pensiamo ma poi al primo posto viene la città e loro ancora questo non l'hanno capito, siamo all'ultimo anno, ancora non l'hanno capito. Il Consiglio Comunale ha durante l'anno una cosa importante, il DUP collegato col bilancio, il documento unico di programmazione ha il bilancio, è il bilancio. Se noi non abbiamo come eventualmente andare a mettere qualche idea all'interno di questo DUP, ma che ci facciamo in Consiglio Comunale? Secondo loro andiamo a votare qualche debito fuori bilancio, qualche cosa così, ma non esiste, non esiste. Non è la politica che ci appartiene. Nel momento in cui arriverà il DUP e il bilancio in Consiglio Comunale solo voterò loro. La politica è un'altra cosa, è un'altra priorità, le priorità che loro non capiscono. Si mettono in testa una cosa, una cosa alla pista, ciclabile, 500 mila euro e poi il servizio pulmere per qualche decino di miliardi non si può fare. Alcamo è stata sempre abituata ad avere questo servizio così importante per la nostra città. Attenzione, l'amministrazione fa i suoi conti. Visto la pandemia si è bloccato un processo ben preciso e quindi ci possono essere ritardi. Ma i ritardi, quali ritardi? Questi qua sono servizi fondamentali. Io parlo di servizi fondamentali. Un servizio fondamentale non può passare inosservato, anche perché con tutto il rispetto noi come città, come spese per la pandemia a livello locale, non è che abbiamo fatto spese particolari. Tutti i soldi che abbiamo avuto dallo Stato e della Regione, a breve ci sono altri 270 mila euro, sia la prima tranche che la Regione ci dà. Il Comune di Alcamo non è che ha avuto particolari le spese per la pandemia. E' un discorso anche di una fattiva collaborazione che noi abbiamo chiesto nel momento della pandemia all'amministrazione. Ecco, serviva anche per dire, sotto il nostro punto di vista, questo servizio bisogna farlo, è fondamentale, lo riteniamo importante perché ci sono nella vita le priorità. Questo è il punto focale. Grazie a tutti.